buongiorno a tutti dalla nostra sede italiana di almese sono carlo palmieri direttore commerciale di finder spa con questo video messaggio voglio portare a tutte le filiali sparse nel mondo un caloroso saluto da l'italia ciao e switch to the future hallo io sono Francesco Iacovelli Geschäftsführer della filiale di Schweizer mi ringrazio per la nostra madre in almese per questo credito e ringrazio a tutti i nostri amici amici a tutti i nostri 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 amici di finder deutschland, sono molto felice e sono molto orgogliosi di questa firma di essere grazie e l'abbiamo grazie a tutti grazie a tutti e benvenuti in FINDER Austria mio nome è Leopold Drehn e sono il generale manager dell'autriano subsidiario siamo molto felici a questo FINDER e sono il generale di FINDER sono il generale di FINDER e sono il generale di FINDER sono il generale di FINDER e sono molto felice a FINDER per fare le cose che possono aiutare le persone e per fare le nostre FINDER grazie molto Grazie mille! Bye! Ciao! My name is Ashish Manchabda. I am a manager of Finder India. In my own sector, sales, marketing, original sales, logistics and commercials are doing well. Our purpose is that we will come to the next year to the next year. I hope that we will come to the next year. Thank you. Hello, I am Sophia Lin. Finder Asia. Our goal is to make our goal in the United States. Our goal is to make our goal in two years to make 500-600 million of the year. We hope that we can get more support and support from our partners. Hello! And welcome to Finder Relays USA. My name is Ingo Kittsrow and I am the president of Finder Relays Incorporated. I, along with the rest of the team, are proud to be part of the global Finder family. We all strive to maintain the quality and the integrity that the Finder name has represented for 16 years. Thank you. My name is Ivan O'Fremont. I am responsible for the organization of renovators Finder here in Mexico since 2004. Many greetings from Mexico! Bye! Bye! Hi, guys! My name is Johannes Guerra. I am Jay61 Eletricist, responsible for the delegation of the Finder in Brazil and Argentina. La distanza tra il lavoro e il lazer è praticamente nulla. Voglio dire a tutti voi che ho molto orgoglio di lavorare in una firma come una firma. Benvenuti alla firma del Portugal. Il mio nome è João Dinizio. Sono diretor della firma della firma del Portugal. E con la felicità che un'inverno che non è motivato fa parte di questa grande famiglia. Grazie. Hola, mi nome è Javier Serrano. Benvenuti a Finder España. Il finale è un risultato. Vivere ogni giorno un po' meglio. Bis pronto. Finder è una grande squadra, una grande famiglia. E mi sento molto privilegiato di essere parte di questo. Buongiorno. Io sono Fabrice Levasseur, direttore di Finder France. Un gruppo di equipe unita con dei forti. Abbiamo tutti la même volontà. Estabili una relazione inerbranlabile con i nostri clienti. Un solo buto. Construire per durare. Buongiorno. Buongiorno. Sono Filippo Ilpio, responsabile per la Finder subsidiari in Belgiung. Mi piace lavorare per Finder perché guidare i nostri clienti in loro choices per il migliore prodotto e la migliore soluzione è un risultato ogni giorno. Ciao. Ciao.